Ingegnere, ma qual è la finalità vera e propria della situazione? Noi genitori dei ragazzi e dei bambini con autismo mettiamo il cuore nel mettere in risalto e in luce le problematiche purtroppo ancora non risolte presenti nel nostro territorio e nella nostra città relativamente alle persone portatrici di questa sindrome. Ci sentiamo in questo momento, come dire, abbastanza delusi dell'assenza nel territorio di ciò che traduca le linee guida regionali in una realtà concreta di assistenza e di sostegno per i ragazzi e i bambini disabili e per le loro famiglie. Ci riferiamo soprattutto ai centri diurni? Ci riferiamo in particolare ai centri diurni. A Mautismo ci mette il cuore nel portare avanti determinati obiettivi che sostanzialmente sono quelli di creare una rete fra i genitori che consenta di avere consapevolezza e di accedere subito alla diagnosi e alle terapie, di avere sostegno reciproco e di darlo anche a quelli che al momento non sono iscritti ma che sicuramente parteciperanno dopo e quindi creare, sostenere, promuovere la creazione di strutture adeguate, professionalmente valide, che possano accogliere i ragazzi con autismo particolarmente nell'età post-scolare, nel momento in cui non esiste appunto la guarigione ma esiste la necessità di dare concretezza, di dare spazi, di dare significato alle persone affette da autismo che hanno necessità quindi di avere una loro realizzazione, un loro punto di aggregazione, di avere degli impegni che vanno realizzati in ore e che la famiglia da sola non potrebbe sostenere. Cosa vi ha lasciato il Blue Day e cosa vi ha insegnato Samuele, il ragazzo autistico che è riuscito a diplomarsi? Per noi il Blue Day dura 365 giorni l'anno, il fatto che ci siamo incontrati e conosciuti ha fatto sì che ci mettessimo assieme, ne discutessimo, traducessimo quelle che erano le problematiche in obiettivi in quello che gli inglesi chiamano una mission, cioè una serie di punti che intendiamo portare avanti, uno dei quali gliel'ho detto la rete, un altro è quello del rapporto con le istituzioni, per accendere i fari a questo punto su tutte quelle che sono le carenze presenti nel territorio, chiedere un dialogo, fare progetti comuni sia con le istituzioni che con le altre associazioni che vorranno farlo, in primo luogo quindi promuovere tutto quanto può portare concretamente a realizzare quei centri, quei punti di aggregazione e a soddisfare quelle necessità che attualmente sono disattese. Per noi Samuele è stato un momento di grande gioia perché ha acceso ancora di più i riflettori su questa problematica, oltre a rappresentare un momento di gioia fra amici da condividere. Ha posto determinate domande, ha accentrato l'attenzione su questa problematica, anche con tutte le considerazioni che possono essere tratte all'atere, ma sostanzialmente ha posto un problema. Abbiamo dei cittadini di Serie A come tutti gli altri, che hanno dei diritti, che vanno rispettati, che la legge già prevede, che semplicemente non sono stati realizzati. Noi con ammautismo ci mettiamo il cuore nel far sì che questa accensione di luci, questo illuminare i problemi, non si traduca in un pietismo, ma si traduca in una realizzazione di quanto ancora non è stato fatto, particolarmente in una realtà trascurata come Gela.